Oggi ho provato ad utilizzare questo blocca campane, blocca frizione o chiamatelo come lo volete, diciamo che potrebbe essere utile però l'unica pecca che non mi è tanto piaciuta è che questi pioli, questi perni qua sono un po' corti e quindi stando da soli questi qua si vanno a perdere, bisognerebbe svitarli e metterci di perni più lunghi perché l'idea è buona, è carina, questa costa pochissimo, cioè costa 20 euro, per il link sotto nelle descrizioni se per caso la volete provare, per avere questa bisogna essere sempre in due perché serve sempre una mano, tu mi tieni questa e io svito, è così. Ragazzi oggi per la prima volta non utilizzerò il compressore e vi farò vedere come smontare una frizione senza compressore e cioè con questa, una chiave per smontare le campane, l'ho comprata e nuova nuova, guardate quanto è bella, costa pochissimo, ve la link sotto nelle descrizioni e ora vediamo se funziona. La chiave eccola qua è semplicissima, questa si regola in base al tipo di fori che dobbiamo andare ad innestarci, ci sono, guardate qua ci sono dei pioli più piccoli e più grandi, vedi, io mi faccio così, si mette così, sperando che non usci fuori tutto e poi dopo vedi, per bloccare, bloccare la, la campana, io devo girare in senso anti-orario, la cosa brutta è che io devo fare tutto con due mani, rendetevi conto è l'utilità di avere un compressore, io adesso l'avevamo già smontata, invece adesso bisogna fare questa manovra, metto qui di lato, devo controtenere, allora vediamo così, vediamo così che se va, eccolo, eccola, eccolo, ottimo, yeah, ok ragazzi possiamo finire qui il video, come al solito se non siete iscritti al canale iscrivetevi, bene ragazzi ciao ci vediamo alla prossima, ciao